Visto che sono diverse settimane che dici che questa partita non sarà assolutamente decisiva, però è una partita bella da giocare, importante e stimolante. Sì, certamente, tanto perché è un derby, tanto perché determina il primo posto in classifica e soprattutto dà un po' un segnale dello stato in cui saremo, vediamo, sono curioso di vedere in che stato saremo. E anche rispetto a quella che era stata la gara d'andata, che tipo di progressi ti aspetti dalla squadra? Vorrei vedere dei progressi da un punto di vista mentale, perché poi il nostro obiettivo è essere pronti mentalmente durante i play-off, quindi queste partite si avvicinano abbastanza a quelle che poi sono le difficoltà che potremo trovare nei play-off. In più c'è anche in palio qualche cosa, perché comunque il primo posto, seppur poco, dà un vantaggio di un'eventuale bella in casa. C'è da dire che comunque l'eventuale bella in casa è un po' azzerata dal Covid, però comunque noi andiamo questa partita per vincere, come comunque con tutte. Ti faccio la solita domanda, ovvero come sta la squadra, che in questo momento così particolare, col campi è tanto spezzettato, è sempre una domanda abbastanza attuale, e che settimana avete vissuto dopo la partita contro la Renzano? Ma allora, la squadra sta discretamente bene, da un punto di vista fisico c'è stata qualche piccolezza, ma comunque tutti più o meno rientrati, con la speranza che comunque sabato siamo tutti fisicamente a posto. La partita dopo a Renzano ci ha detto che ancora abbiamo da lavorare moltissimo, quantomeno per quello che sono gli standard che io pretendo. Devo dire che se miglioreremo nelle fasi mentali abbiamo opportunità di toglierci delle soddisfazioni, quindi concentrazione per tutto l'arco della partita, ma soprattutto un sacrificio mentale, che ancora facciamo fatica a metterne la partita. Se riusciremo a dare questa svolta ci possiamo togliere delle soddisfazioni, altrimenti siamo un po' forse in baglia degli eventi. Camogli gioca in casa, ma se gioca a Bogliasco ti chiedo se cambia qualcosa o se può essere paradossalmente un ulteriore stimolo. Come già ti ho detto fuori dai microfoni non è una cosa a cui ho pensato particolarmente, ripeto il Covid azzera un po' il fattore campo, certamente aver giocato a Camogli con tutto il pubblico davanti sarebbe stato sicuramente molto più appagante. Detto questo noi non dobbiamo guardare in faccia a nessuno né guardare dove stiamo giocando né contro chi, dobbiamo solo pensare a noi stessi ed è il segreto per poter avere dei risultati.